Quello che vedete è quanto resta del chiosco bar della villa comunale di San Giorgio Ionico in via Cadorna, alle porte del paese. Ne resta ben poco del bar, praticamente solo la struttura portante. Un rogo nella notte ha divorato il chiosco distruggendolo. Erano le due circa quando sono arrivati i vigili del fuoco dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. E con loro i carabinieri della stazione locale e della compagnia di competenza di Martina Franca. Il bar è di proprietà di una donna, una sessantenne di San Giorgio. Il locale ha riportato danni ingenti quantificabili all'incirca attorno ai 10-15 mila euro, senza contare la merce perduta nell'incendio. Poca merce per fortuna. Il locale infatti era ancora in fase di costruzione e funzionava solo in parte. Nessuna pista è esclusa al momento. I vigili del fuoco non escludono che possa essersi trattato di un cortocircuito. L'incendio infatti è partito dall'interno della struttura. Probabilmente le fiamme hanno avuto origine in un angolo del bar dove era accumulata della merce confezionata in plastica, come bottigliette e altro. Stando le prime informazioni raccolte dai carabinieri, sembrerebbero da escludersi le ipotesi dell'estorsione, dell'avvertimento o comunque eventuali possibilità di natura criminale. Piuttosto sembrerebbero esserci dissidi di natura familiare, ma saranno le indagini a chiarire i fatti consumati nella villa comunale. Un luogo pubblico, fornito quindi probabilmente di telecamere di videosorveglianza, i cui fotogrammi potrebbero dare una svolta alle ricerche di chi ha piccato il fuoco.